La cultura è una cosa importante, non è una cosa così che non dà da mangiare, perché dà anche da mangiare. Di cultura abbiamo bisogno tutti. Il Teatro Colcia fa cultura perché fa teatro, e il teatro è cultura. Una città senza un teatro è una città incolta. Il Teatro Colcia è un teatro molto bello, con un pubblico generoso, vero Pino? Straordinario, vogliamo continuare a venirci e appunto per questo va sostenuto. Sì, quindi fateci un favore, sostenete la fondazione del Teatro Colcia di Novara.